Buongiorno Spatite Evo je neko si stigl ozene Vaz, zvojite samo ništa, a? Ajde, ajde, ajde Da, da, da Ajde Da, 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 da Ajde Ajde, da, 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 da Vrti bre Stav se na vas Sì, non è il mene. Sì! 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 direttamente Non, ci sono più avanti Noi, noi pensi che sono così Noi, non, ma come giù è la la testa Vediamo t'escritto Vediamo Visi vissi Visi vissi Non sono no 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 non non scusa ora ora non 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 sono un po' di più non si è un po' di più non è un po' di più posso venire, non c'è e la cosa? e la cosa? e la cosa? non è il nome di bucchio non ho un po' di più non lo so, non lo so non lo so, ma è il livello un po' di più ahahahah a putti suba ti fanno ahahahah dalia ahahahah ooooh ahahahah ahahahah ahahah ahahahah ahahahah ahahahahah 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 e orvi... stai c'è ne so biti vajde vajde dai moramo da go burimo i usi a di ne moriamo a ovi će nam ru... vajdi 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 non è vero che tu nekai che fai ma te fai che fai a vieni a sudoksi flicolino e vi ho chiamato dai due poli a vieni a tehnò da tehnò mi da sta brate tu mora da tehnò da tehnò da tehnò da tehnò da tehnò evo njega vieni tu zanò kakvi che posso fare Che sono un po' che cosa faccio a fare? Il tuo oro nel tecnico? Questa cosa? Guardi, io vedo qui ti dozzo, sto? E tu voi, cheonterai un pozzo che farbano qui in casa? C'era il mio robot? Non lo so è, non lo so è? Non lo so è, non lo so è? Non lo so è poi che ci dozzo! Mi sono dovuti a chiudere, a chiudere. Ciao, come ho vedo l'arico niente? Mi sono vissuto a vedere tanto per te. Sì, sì, è un dono, è un dono alito. È un dono? Da, vedi, un dono, è un dono. Da, da, da. Ciao, sono qui, amici, non è stato questo giusto. È un dono? Sì, siamo in un dono. Ajè damai un palazzo A e, 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 e… ProvTechi pa nè accendend transcendendosi A, e, e, ma il fatto di è Cosa è le fatto di parlare Come un suonino? Seko mai parte sa lavorazioni? E e, e, e s pane R Sauvu Vedi che mi hai portato da varenco Però te farire lei?! a 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